Sono sempre più le famiglie in difficoltà in Campania, con la nascita di nuove povertà derivanti dal fenomeno della pandemia. Presentato a Napoli a Palazzo Santa Lucia il dossier regionale povertà 2020-2021 riguardante la Campania a cura di Ciro Grassini e Serena Quarta. Utilizzando i dati raccolti dai centri di ascolto in rete in tutta la regione, il documento racchiude gli ultimi due anni scanditi dal Covid e ha mostrato il profilo delle persone che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto e la sua evoluzione nel tempo della pandemia. Ecco perché la regione Campania ha deciso, guardando i dati, di scendere in campo, creando una rete di solidarietà con la Caritas, le curie e le parrocchie per stare sempre più vicino ai cittadini e alle famiglie indigenti. A presentare il dossier il delegato regionale della Caritas Carlo Mele, il direttore del Dipartimento degli Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno, Gennaro Iorio e Monsignor Antonio Di Donna, presidente della conferenza episcopale Campana. Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale e alle politiche sociali, Lucia Fortini, che ascoltiamo ai nostri microfoni. I dati del rapporto Caritas mostrano una evidenza che già comunque c'era abbastanza chiara, il fatto che sono aumentate le famiglie che hanno difficoltà. In realtà la pandemia ha messo in evidenza come il lavoro precario, il lavoro nero, abbia naturalmente creato molti problemi nei nuclei familiari che non sono più luogo in cui si sommano dei vantaggi, ma al contrario in un periodo in cui ovviamente non era possibile fisicamente recarsi al lavoro è diventato luogo di debolezza. È chiaro quindi che sono indispensabili tutta una serie di misure, di azioni che possano supportare in questo momento la famiglia insieme alla Caritas, io immagino, si possa fare un percorso importante.